Un viaggio dalla Bulgaria all'Italia, destinazione Abruzzo, con la promessa di una vacanza al mare a Pescara. Ma anziché in spiaggia è finita sulle strade del capoluogo adriatico, la giovane bulgara di 21 anni ingannata da due connazionali di 35 e 43 anni che l'hanno costretta a prostituirsi. Un incubo durato una quindicina di giorni, con la ragazza costretta a dormire dapprima in un furgone e poi in un albergo. Gli incassi quotidiani vengono trattenuti dai due sfruttatori che le lasciano pochi spiccioli per i bisogni quotidiani. Ma la 21enne non rinuncia al sogno della sua libertà e racimola un gruzzolo di 250 euro per pianificare un viaggio di ritorno da sola in Bulgaria. I suoi aguzzini le sequestrano anche quelli e allora lei decide di chiedere aiuto a una connazionale trentenne prostituta che la ospita per un breve tempo a casa sua mentre lei si prepara a rimpatriare di nascosto. Sarà proprio la trentenne a denunciare la scomparsa della giovane amica 21enne rintracciata dai suoi sfruttatori nei pressi della pineta danunziana e caricata contro la sua volontà su un furgone nero con targa bulgara. Sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione saranno proprio i due reati contestati e i due bulgari arrestati infine lunedì 21 giugno grazie a un'operazione interforze di polizia che ha preso il via domenica 20 giugno a seguito della denuncia di sequestro da parte della trentenne bulgara preoccupata per l'amica che le aveva chiesto aiuto dopo essere stata caricata sul mezzo dei due uomini. Al nostro microfono Dante Cosentino, vice capo della squadra mobile di Pescara. Un sequestro di persona sventato, tecnicamente consumatosi perché la ragazza è stata caricata con forza su un furgone e ha viaggiato diversi chilometri. Per fortuna siamo intervenuti come polizia di stato perché è stato uno sforzo, dicevo prima, corale con l'apporto determinante della procura della Repubblica di Pescara. Siamo intervenuti prima che la ragazza venisse portata oltre confine, quindi verso un destino che dai contorni assolutamente incerti. Decisivi per intracciare il furgone sono stati proprio i messaggi che la 21enne è riuscita furtivamente a scambiarsi con l'amica fino all'individuazione del mezzo stesso, nel frattempo identificato con targa e modello dalla squadra mobile di Pescara e rintracciato dalla polizia di frontiera di Gorizia, prima di riuscire a passare il confine italiano con destinazione Bulgaria. Una ragazza che era qui da più tempo, quindi che parlava l'italiano, cosa che fa la differenza non da poco, con cui la vittima aveva legato in questi pochi giorni sulla strada a Pescara e che appena ha avuto notizia dell'avvenuto sequestro e ha capito, percepito la gravità della situazione, non ha esitato a contattare i poliziotti tramite 113 e venire in questura e essere anche collaborativa nell'intrattenere una chat telefonica per quanto saltuaria, perché messaggi arrivavano uno ogni tanto con la vittima del sequestro. I due uomini si trovano ora agli arresti in carcere a Udine e Gorizia, mentre la 21enne bulgara è stata affidata a una struttura protetta. Le indagini della polizia proseguono sul giro di prostituzione.